Alex de Minour ha spaccato la sua racchetta dopo l'ennesima sconfitta contro Yannick Sinner. Ma cosa si nasconde dietro questo gesto di rabbia? Scopriamo il retroscena di una rivalità che lo sta logorando. Per capire cosa ha portato a questa reazione, analizziamo insieme l'andamento della partita e le dichiarazioni di de Minour. Oggi parliamo di Alex de Minour, il tennista australiano, e della sua esplosiva reazione al termine della partita contro l'inarrestabile Yannick Sinner. Un momento di frustrazione che ha fatto il giro del mondo. Ma cosa c'è dietro questa sconfitta? E soprattutto, cosa rende Yannick Sinner un avversario così temibile? Prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e lasciare un like per supportarci. Secondo voi, la pressione in campo giustifica gesti di rabbia come quello di de Minour? Scrivetelo nei commenti, vogliamo sapere la vostra opinione! Al termine della partita contro Yannick Sinner, Alex de Minour ha lasciato tutti senza parole con un gesto istintivo. Ha spaccato la racchetta sbattendola a terra. Una scena che riflette non solo la frustrazione per la sconfitta, ma anche il peso psicologico di una rivalità in cui l'australiano sembra non riuscire a prevalere. Questa è stata la nona sconfitta consecutiva per de Minour contro Sinner, un record negativo che mina la fiducia di qualsiasi atleta. Lo stesso Alex ha dichiarato Mi scuso per la mia reazione. È stato un momento di rabbia che non rappresenta chi sono. Ma è solo rabbia o c'è qualcosa di più profondo? La pressione di affrontare un giocatore che sembra imbattibile può portare a reazioni del genere. Yannick Sinner, l'azzurro che quest'anno ha dominato il circuito, è una vera e propria nemesi per de Minour. Nove sconfitte su nove partite, un dato che parla chiaro, ma perché è così difficile batterlo? Velocità della palla. Sinner riesce a mantenere una velocità costante durante tutto il match, rendendo impossibile prevedere le sue mosse. Costanza mentale. Nei momenti cruciali Yannick non crolla. Al contrario, riesce a fare il famoso passo avanti. Preparazione tecnica. Ogni dettaglio del gioco di Sinner è studiato per mettere pressione all'avversario, senza lasciare punti deboli. Per de Minour, affrontare Sinner è come cercare di risolvere un puzzle complesso, un compito che finora è sempre fallito. La frustrazione di de Minour non è un caso isolato. Nel mondo del tennis, la pressione mentale è una delle sfide più dure. I tennisti non si confrontano solo con i loro avversari, ma anche con le aspettative di milioni di fan, sponsor e allenatori. De Minour stesso ha spiegato come l'intensità del match contro Sinner lo abbia portato al limite, dichiarando Devi giocare il tuo miglior tennis, soprattutto nei punti cruciali. Lui ti costringe a essere perfetto. Cosa ne pensate di queste pressioni? Credete che i tennisti debbano fare di più per gestire lo stress in campo? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere la vostra opinione. Nonostante la sconfitta, Alex de Minour rimane uno dei giocatori più talentuosi del circuito. La sua velocità e il suo spirito combattivo lo rendono un avversario temibile per chiunque. Ma per superare il muro rappresentato da Sinner, De Minour dovrà lavorare sulla sua preparazione mentale e strategica. Una possibilità? Rivolgersi a un mental coach, una figura che negli ultimi anni è diventata essenziale per molti atleti di alto livello. Con il giusto supporto, Alex potrebbe trasformare la sua frustrazione in una nuova arma per affrontare le sfide future. Parlare di questa rivalità significa anche celebrare il talento di Yannick Sinner. A soli 23 anni, Sinner è già considerato uno dei migliori tennisti al mondo. La sua ascesa nel ranking è stata fulminea grazie a un mix di talento, dedizione e una squadra che crede in lui. Sinner rappresenta il futuro del tennis italiano, ma anche una minaccia per tutti i suoi avversari. La sua capacità di mantenere la concentrazione in ogni match lo rende unico e la rivalità con De Minore potrebbe essere solo l'inizio di una serie di sfide epiche. Alex De Minore ha dimostrato che anche i migliori possono cadere sotto il peso della pressione. Il suo gesto di rabbia è un promemoria di quanto il tennis sia non solo un gioco fisico, ma anche mentale. Da spettatori, possiamo solo immaginare quanto sia dura competere a questi livelli, ma questo non giustifica comportamenti impulsivi. Crediamo che Alex saprà imparare da questo momento e tornare più forte di prima. Cosa ne pensate? Scrivete nei commenti la vostra opinione. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, lasciare un like e condividere questo video con i vostri amici appassionati di tennis. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata su Notizie Livestream. Un saluto da tutto il team.